Lei ha già tanti problemi come chi governa, come tutti quelli che governano con le opposizioni, ma ci si mette anche Fontanini che è della sua stessa area politica da Udine a reclamare maggiore attenzione perché sostiene che ci sia una disparità di trattamento tra Udine e Trieste. Vuole entrare nel merito di questo oppure ci limitiamo a dire che forse è il caso di smetterla con queste guerre di Campanile? Io credo che legittimamente un sindaco cerchi di valorizzare e difendere il proprio territorio. Io penso che come amministrazione comunale abbiamo cercato sempre di tenere un equilibrio e un'equità rispetto alle singole opportunità. È ovvio che se c'è da fare un investimento utile a Udine, io lo faccio a Udine, non è che devo farlo lo stesso anche su Trieste perché a quel punto non sarebbe una crescita del territorio ma sarebbe semplicemente un equilibrio politico che non aiuterebbe nessuno. Per sviluppare la regione dobbiamo capire le singole potenzialità e intervenire sulle singole potenzialità dei singoli territori e sviluppare quelle specificità. È chiaro che per esempio l'Università di Udine gode di un deficit, gode più che altro, è penalizzata da un deficit di finanziamento ordinario che dipende dallo Stato nazionale. Abbiamo ridato un piccolo contributo rispetto al deficit che è a Udine, dallo Stato rispetto al finanziamento ordinario di 200.000 euro confermata in quest'anno, però è chiaro che è una situazione che si deve stabilizzare. Non credo che la gara la si faccia, che un altro deve prendere di meno, ma forse l'Università di Udine deve prendere di più.